Cari amici, tanti saluti dal mondo delle ombre. Sono Democrito di Abdera, uno dei rimei o filosofi dell'antichità, anche se Platone ha cercato di mettermi in ombra, ma in questi tempi ci sta pensando il grande filosofo francese Michel Onfray con questo libro Le saggezze antiche a riabilitare la memoria mia. Vedete che libro, che meraviglia? Guardate un po' che roba. Io sono quello, io sono, io Democrito di Abdera, sono quello che disse tutto ciò che esiste all'universo, nell'universo, è frutto del caso e della necessità. Per meglio spiegare questo concetto, poi Armando De Venuto è un grande biologo francese, un grande biologo francese che ha avuto pure il premio Nobel, che ha scritto il grande libro intitolato Le hazard et la necessité, il caso e la necessità. E adesso vi spiego tutto, vi voglio spiegare tutto come sta faccenda qua del caso e della necessità, perché io ho detto, io Democrito di Abdera ho scoperto che tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Poi Jacques Monod, il francese Jacques Monod, 20-30 anni fa, ha scritto un bel volume intitolato Il caso e la necessità. Com'è sta faccenda col titolo? Puttane, modelle, DNA. Perché l'amico mio, Seratino Massoni, che sta sulla terra e non è ancora morto ed è in contatto con me, mi ha fatto vedere sto messaggio che gli ha mandato un bravo blogger che si chiama Volnos, Volnos, 3-3-3. Quindi no 6-6-6, ma 3-3-3, che è tutta un'altra musica. E qua dentro sto messaggio, dentro sto messaggio c'è stata una frase che non mi piace per niente, non mi piace per niente. E torniamo alla questione del rapporto tra genetica e ambiente. Torniamo quella questione lì, che io l'avevo già risolta all'idimpimia, dicendo che tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Mo Volnos 3-3-3 gli ha mandato all'amico mio, Seratino Massoni, questo messaggio dove c'è scritte tante cose e virgolettate, 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 c'è la seguente frase di qualche genetista che non capisce niente. Purtroppo siamo ancora schiavi del pregiudizio che siano l'ambiente, l'educazione ricevuta, il comportamento dei genitori a determinare quello che diventiamo. Capito? C'è un qualche infamone, un genetista, un darwinista puro, puro sangue che dice purtroppo siamo ancora schiavi del pregiudizio che siano l'ambiente, l'educazione ricevuta e il comportamento dei genitori a determinare quello che diventiamo. E qua su questa frase ci siamo fatti un sacco del risale, io e l'amici mia qua nel mondo delle ombre, perché si vede che voi mortali ancora non avete capito niente. Vi voglio fare esempio, premesso che quando io dico tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso della necessità, voi dovete tradurre il caso come l'ambiente, l'ambiente, l'ambiente circostante, la necessità come il vostro codice genetico e questo l'ha spiegato bene Jacques Monod nel libro che ha il titolo copiato da me, il caso della necessità. Vi voglio fare esempio, premio quello delle mignotte e delle modelle secondo il titolo che io ho dato a sto filmato che vi mando in maniera virtuale dal mondo delle ombre che è un mondo virtuale. Sentite un po', voi mettete in fila un bel numero di bellissime mignotte, bellissime perché so belle come delle dèi, come delle dèi dell'olimpo mio, dell'olimpo mio, dei tempi mia quando vivevo sulla terra. Mettete in fila 15-20 di quelle belle mignotte che stanno lungo le strade consolari e che si riscaldano al fugherello di sera e di notte. Belle con le minigonne, i tacchi alti così, belle mezze nude, belle, veramente belle, 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 belle. E poi metteteci a confronto altrettante modelle di quelle che sfilano, di quelle che fanno le grandi sfilate di moda e che sono venerate, adorate e anche ritenute delle donne per bene. Ditemi voi, ma per quale motivo? Ma per quale motivo? Per quale motivo? Queste belle ragazze, moldave, ucraine, polacche, slave, albanesi, belle, alte, slanciate, mille volte meglio di Eva Erzigova, perché battono la strada? battono la strada, fanno le mignotte e altre invece come Paris Hilton, che so, come la Carla Bruni, invece sono le regine del mondo capitalistico. Dov'è la differenza? Ma dov'è la differenza? Ditemelo voi, mortali che non siete ancora morti, ma perché quelle lì che sono belle come quelle là battono la strada, fanno le mignotte, le schiave e invece quelle altre, che non sono più belle delle mignotte, fanno le sfilate di moda. Ma dov'è? Dov'è? Perché? Dov'è la differenza? La differenza è nella situazione in cui sono nate, nell'ambiente in cui sono nate, il caso, il caso, il caso, l'ambiente, il caso, il caso, il caso, non i meriti genetici personali, ma il caso, il puro caso, la fortuna, chiamatelo come volete voi, caso, fortuna, fato, l'ambiente, l'ambiente circostante, l'ambiente circostante ha fatto di quelle belle donne, delle mignotte e di quell'altre belle donne, le occasioni, le circostanze, ha fatto delle modelle e hanno lo stesso patrimonio genetico, hanno la stessa bellezza, la stessa bellezza, le stesse forme armoniose di una dea greca, identiche. Alcune sono mignotte, altre sono modelle, sono regine dell'alta moda. Va bene cari, allora quante cose che dovete capire ancora, quante cose voi terrestri che dovete capire. Giacomo Leopardi, Giacomo Leopardi, quel grande, grande poeta, filosofo che voi italiani manco lo valorizzate adeguatamente, Giacomo Leopardi, ma voi prendete un Giacomo Leopardi a sei anni, figlio dei contadini, di povera gente, che ci sente dire da mamma e papà, Giacomo, tu sei gracile gracile, invece di mandarti a lavorare nella stalla, perché c'hai già l'età giusta a sei anni per lavorare nella stalla, ti facciamo fare il mestiere del sarto. E papà e mamma gli mettono in mano a Giacomo Leopardi, gli mettono in mano ago, ago e filo. E Giacomo Leopardi si mette seduto lì nella cucina, nella stalla e comincia ai primi rammendi, comincia a imparare il mestiere del sarto. E attorno a lui non c'è manco un libro, manco uno. Che faceva quella mente splendida di Giacomo Leopardi? Se fosse nato in una stamberga e gli avessero messo in mano il filo, il filo e l'ago invece dei libri, che era circondato da un oceano dei libri. Il caso e la necessità, le hasartet la necessité, ecco perché gli invidiosi mi hanno sempre messo da parte, mi hanno messo sempre da parte. Perché io ho detto, io, democchio di Abdera, ho detto che tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Ma la voi e la vostra genetica, ma finitela! Che fate ridere i polli, fate ridere! Il gene non conta niente se non c'è l'interazione con l'ambiente sociale, con le parole, con le parole, con le parole, l'ambiente sociale. Il gene è nulla, il gene, senza l'interazione con l'ambiente. Smettetela di suonare questa vecchia musica qua, smettetela! E assumetevi le vostre responsabilità! Buffoni, burattini che altro non siete, rimboccatevi le maniche, assumetevi le vostre responsabilità, altro che dalla colpa alla genetica. E l'ambiente sono le circostanze che determinano tutto o quasi tutto. Mi sono sfogato come si deve, mi sono sfogato perché ve le meritate, ve le meritate queste elezioni. Me ne torno nel mondo delle ombre e sto molto più tranquillo. Tanti saluti da democchio di Abdera che presto torna a farsi sentire di nuovo.